Grazie di essere qui, sono molto contenta perché sono numerosi e questa è una serata che in Tassi di Pavia ha organizzato una buona giornata, anche molta emozione per mettere e come prima cosa vorrei assolutamente ringraziare il gruppo di Pavia, ho stato Pavia per Laura Luffato e quindi mi chiede questa sera in diretta tutti su Twitter parlare la storia di questa nostra serata poi ringrazio Federica, ringrazio Massimo, ringrazio che ci siamo fatti da tutti i fai in maniera splendida con i nostri profondi dell'Operpoco Avese, Laura e Debora hanno pensato, vino, salami, mangi, bai, abbiamo potuto accoglierla in questo momento. Secondo voi, risposta a Camila, per cortesia, qual è il fatto più rilevante di ieri secondo voi? Una risposta, l'è successo ieri, che vi è rimasto in mente? Ecco, la risposta come sempre è sbagliata. Il fatto più rilevante di ieri è che ancora una volta questo paese è stato mantoriato da una pioggia un pochettino più consistente del solito e una parte d'Italia ha sofferto le cose che abbiamo visto alla televisione, la solita comparsata di displegazione, la solita comparsata della distruzione del paese. Ecco, la vostra risposta, che ovvio me l'aspettavo, sono contento come stessa di avermi provveduto, rivela che ormai noi non siamo più in grado di valutare le cose. E proprio per questo motivo, uno dei motivi che mi ha indotto ad scommettare personalmente su Laura Marco, che io in precedenza non conosciuto, confesso di non conoscerla nemmeno per il suo ruolo importante del Partito Democratico e anch'io sono stato colpito da pochi frammenti dell'intervista di Concita di Gercocchi. Ora, siccome, come voi sapete, sono molto incontiglioso, e cosa ho fatto? Ho fatto un'indagine ad avvento su internet, su Laura Marco Marco, e come può confermare anche il mio amore, telefonare agli amici comuni per pensare che effettivamente meritavano lo sforzo di quell'euro alle primarie. Altrimenti, personalmente, non mi sarei andato a scaldare per scegliere vendola, per sani, o chi sono gli arabi, non avevo neanche un'idea, però mi dispiacevo anche perché io nella politica ci ho sempre sperato, ma mi rafforzato, ma ho anche qualche responsabilità come indipendente, e allora ho incominciato a leggere il suo profilo. Ho letto subito il programma e mi ha colpito una cosa, che è il centro d'incluso. Il suo programma, appunto, prima c'è uno scopo che ha il titolo di un libro recente, rete dal sole, mi sembra, riparare l'Italia. Ecco, riparare l'Italia. Riparare l'Italia dal dissesto che connota questo bel paese e che noi ormai siamo abituati. Siamo abituati. Mi permetterà, mi permetterete voi di parlare di lei, di fare un riferimento a quello che ha detto Ernesto. Mi sono sforzato di fare quello che lui ha detto, cioè di interpretare il mio ruolo politico come un ruolo di espressione della società civile. Non sempre si sono riuscito, perché questo paese è fatto nel modo in cui tutti noi sappiamo e non possiamo nascondere che ciascuno di noi subisce i condizionamenti della realtà in cui vive. Però, non posso davvero rispondare, e qui, come dire, il programma di speranza, che il Presidente, che ha degli anni 90, non solo con il turma, ma anche altri amici paesi, abbiamo giustato la prima tata del libro, cioè del libro, quello che portò poi i proni alla Presidenza del Consiglio. Io, che venivo dalla sinistra storica, e ne porto tutto l'orgoglio, credetemi, cioè del Partito Comunista del Comune di Guerra, lui che veniva da una tradizione liberale radicale. Uso i termini liberali e radicale nel senso migliore di questi termini, e non di come sono stati poi anche successivamente un po' ricordati. Laura Coppato è in termini sconsigli in questa contesa di cui stiamo parlando, quello che si chiamano di un outsider. Anche se gli diceva, si è la tutta effettivamente, e come voi sapete, a volte anche gli outsider possono fare cosa. E io dico in termini molto più concreti, una risorsa e un'opportunità di un'opportunità di cui prendiamo il lavoro, quello che si può rilasciare, come esporiente del PD. Lo è quindi per il Partito Democratico, lo è per queste primarie, e lo è per il Paese, perché non si può evincere praticamente dall'avventura del suo programma, il suo è un altro modo un altro modo di occupare lo spazio pubblico tra le persone a volte in questa struttura io sono condizionata anche più di ieri sera però c'è una cosa che mi piace da ieri sera che sicuramente stando con voi l'energia che mi manca arriverà nel senso che stare con la gente è un po' che mi piace di più ed è quello che apprezzo maggiormente gli incontri pubblici sono in realtà per me infamitati quanta parte del mio programma è stata fatta in questi mesi così c'è qualcuno anche in sala che ha contribuito giustamente perché tante delle cose che sono state proposte dai cittadini alla fine avevano più buon senso di quanto io avessi mai letto o scritto e quindi perché non recuperavano parto da qui per dire che hanno molte ragioni grazie Antonio del Maestro nel senso che io credo che si debba cominciare davvero a risultare un po' nello spettacolo di Grillo di cinque anni fa diceva si chiamava lo stesso spettacolo e quello spettacolo che mi hanno premiato come sindaco a Cinque Stelle mi aveva anche chiesto lui mi aveva chiesto di partecipare al suo spettacolo di Grillo di Italia a Cisano a Verona a Torperone poi io dovevo fare sì non è che potessi fare spettacolo la sera e quindi e quindi io ho potuto rinunciare a un certo punto quando vai l'isselante noi abbiamo chiuso lì insomma non posso veramente però è vero che in fondo se la politica si potrisse di ascolto risulteresse molto più interessante e anche più abbraccio grazie